Lanciano Calcio 1920 che arranca, Atletic Lanciano a gonfie vele che procede senza intoppi, sempre col rosso-nero nel cuore. Club nato nel 2017 dall'ex Guastameroli, punta tutto sulla linea verde con una folta schiera di under sotto età, sostenuti dai veterani fedeli alla causa, come Raffaele Pagano, Alessio Di Santo, gli over confermati, vedi Marco Caldi, Yuri Cancellier, Nicolò Dell'Elba, Maurizio Marconetti e Iari Pece, a cui si uniscono i ritorni di Samuele Giampaolo, Gianmarco Baroni, nuovi arrivi interessanti, nell'obiettivo di disputare un campionato di promozione dignitoso. Michele Lascala presidente, vice Antonio Bianco, Massimo Lamorgia e Maurizio Marconetti nei quadri dirigenziali. Il memmo, l'impianto di casa, omologato dalla federazione grazie ai lavori intrapresi proprio dell'Atletic in una dimensione semplice ma che non rimane in superficie, sostenuta dall'arrivo sulla panca di Marcello Di Camillo, un lusso per la categoria uno di quelli che in campo mette cuore, anima, sangue, cervello. Direttore tecnico Federico Amenta, bandiera rossonera, nell'epopea della Virtus in Serie B. Primo impegno in Coppa il 20 settembre contro la Val di Sangro, tutto in armonia senza patemi, con il rossonero a prescindere. Sentiamo Marcello Di Camillo. Devo dire la verità, sono molto emozionato perché dopo 12 anni nei ragazzi del Lanciano della Virtus, nei professionisti, mi ritrovo di nuovo nei dilettanti. Erano 12 anni, l'ultimo campionato l'ho fatto a casa, un'esperienza bellissima sto vivendo in questi giorni. Il ruolo dell'Atletic? E' un campionato difficile per noi, sono squadre attrezzatissime, noi abbiamo tanti ragazzetti della Virtus Lanciano e con 4-5 grandi cercheremo di fare il meglio possibile, lotteremo su tutti i palloni. Le sorti del Lanciano Calcio invece? Guarda io sono... Non c'è un parallelo, competizione assolutamente? Assolutamente no, il Lanciano Calcio è una cosa, noi siamo un'altra. Noi andiamo avanti per la nostra strada senza grosse ambizioni, cercando di far crescere solo i ragazzi. E una squadra, è un club amato, l'Atletic? Ma da quello che leggo sui social no, però non lo so, un motivo non riesco a capire perché è una squadra di Lanciano con tutti i ragazzi lancianesi, non riesco a capire questo astio che ci sta, però andiamo avanti con il lavoro come abbiamo sempre fatto.